Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio e volevo fare la recensione di un film che in realtà è nel cinema da una decina di giorni che è L'ultima notte di amore, nuovo film diretto da Andrea Di Stefano che firma la sceneggiatura e vede il protagonista Pierfrancesco Favino, era un film che era stato presentato come evento speciale alla Berlinale, all'ultima Berlinale e finalmente sono riuscito a vedere questo film di cui sentivo parlare molto e anche molto molto bene e devo dire la verità che sono rimasto decisamente soddisfatto per diversi elementi, anzitutto per il tipo di film perché il film è un thriller noir ambientato tutto di notte a Milano e racconta in brevissimo la storia di questo poliziotto che appunto è Franco Amore che per tutta la vita ha vissuto con grande rispetto il proprio lavoro, il proprio lavoro come servitore dello Stato, è stato sempre integerrimo, ha fatto anche una scelta di lavoro e di vita particolare, insomma è uno che è assolutamente da prendere in considerazione, come punto di riferimento ma l'ultima notte prima di andare in pensione viene coinvolto in un lavoro diciamo così che però gli farà passare la più lunga notte della sua vita, una lunga notte tesissima che metterà a dura prova non solo se stesso ma tutto quello che lui ha costruito in una vita e quella notte la pagherà senza fare spoiler anche a caro prezzo. Ecco questa è in maniera proprio super sintetica la trama di questo film che devo dire la verità e dei film che ha fatto Andrea Di Stefano è quello che mi ha convinto di più, è decisamente più maturo, aveva fatto nel 2014 il film su Pablo Escobar nel 2019, aveva fatto The Informer che a me non aveva convinto granché invece questo secondo me è l'opera più matura e più riuscita del regista che firma anche la sceneggiatura. Diciamo che il film è un film che forse parte un pochettino tardi nel senso che questa lunga notte inizia più o meno a metà film ma quello che avviene prima è un settaggio della storia di perché si arriva a quel momento e serve anche un po' a presentare i personaggi presentare i legami che ci sono soprattutto tra i personaggi ovviamente tra Franco Amore, la sua moglie Viviana interpretata in maniera incredibile da Linda Caridi il legame con il cugino Cosimo insomma tutta una serie di personaggi poi il film in realtà esplode a metà film e nell'ora successiva è decisamente molto teso e in alcuni momenti regala anche grande suspense quello che secondo me funziona bene oltre alla casta è la regia di Andrea Di Stefano che è una regia molto matura molto capace a creare l'atmosfera sia da quando parte diciamo così il film sia anche da prima. L'inizio del film è bellissimo c'è un'inquadratura aerea di notte di Milano fatta benissimo con la giusta musica e ti accompagna non solo ti fa una panoramica di Milano ma poi ti porta dentro una casa dove sta succedendo la festa una festa per la pensione di Franco Amore ma poi in quel contesto non tutto sarà una festa quello che forse ho trovato qua e là non sempre convincente è la sceneggiatura ci sono alcuni momenti che secondo me la tensione nella parte cittadina di Milano di Notte cala un pochettino e secondo me alcune dinamiche sono non dico poco credibili ma non proprio verosimili non scendono nel dettaglio ma secondo me alcune scelte alcuni spostamenti dei personaggi o azioni dei personaggi in quel contesto secondo me non ci stava intanto detto ciò è un film sicuramente che si vede con gran piacere è un film che prende il giusto e poi lascia così nel finale un grande punto interrogativo perché questa notte come finisce? è un taglio finale che mi ha lasciato così un po' interdetto ed è anche una cosa bella in realtà è un film che si chiude e in realtà non si chiude per lasciare spazio allo spettatore a capire cosa succede dopo ecco nel complesso è un film che sicuramente mi è piaciuto che mi ha fatto piacere vedere ci sono momenti di più tensione e meno tensione ma la storia funziona bene funziona bene l'intreccio e gli inganni funzionano anche bene poi è anche particolare vedere non solo un film del genere che in Italia non si fanno tantissimo questi noir thriller ma soprattutto vedere una Milano di notte di questo tipo perché tutto ovviamente ho gran parte girato anche in parti della tangenziale di Milano quindi anche da un punto di vista organizzativo direi molto impegnativo ecco questo è quello che avevo da dire in merito all'ultima notte di Amori attualmente nei cinema italiani è un film che si fa vedere personalmente ho trovato interessante per questa recensione è tutto ciao a tutti alla prossima